La Radio Speranza va ora in onda il Santo Rosario. Misteri del Dolore Nel primo mistero, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolato Cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Nel secondo mistero, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li remitiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolato cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolato Cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Nel quarto mistero, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li remitiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolato cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immacolato cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Salve Regina, madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Corso dunque, avvocato nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo senno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre Celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del creatore, prega per noi. Madre del salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, tore della Santa Città di Davide, prega per noi, fortezza inespugnabile, prega per noi, santuario della Divina Presenza, prega per noi, arca dell'Alleanza, prega per noi, porta del Cielo, prega per noi. Prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri. prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri Concedi di imitare ciò che contengono e di raggiungere ciò che promettono Per Cristo nostro Signore Amen L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria Ed è la concepì per opera dello Spirito Santo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo senno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Eccomi, sono la serva del Signore Si compie in me secondo la tua parola Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo senno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen E il Verbo di Dio si fece carne E vieni ad abitare in mezzo a noi Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo senno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte, Amen Prega per noi, Santa Madre di Dio Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre Tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione Per Cristo nostro Signore, Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, donna loro al Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Da Radio Speranza, la radio della Chiesa di Ocesana di Pescara Penna, abbiamo trasmesso il Santo Rosario. Grazie a tutti.